A Voghera si va al ballottaggio tra il sindaco uscente Carlo Barbieri di Forza Italia che ha ottenuto 6.616 preferenze pari al 34,07% ed Aurelio Toriani che con i voti raccolti attraverso la lista appoggiata dalla Lega Nord ha raggiunto quota 26,60%. I risultati definitivi del voto sono stati resi noti dopo uno scrutinio durato circa 12 ore. Il candidato del centro-sinistra, Pierezio Ghezzi, è stato protagonista di un duello all'ultimo voto con Aurelio Toriani, finito poi al terzo posto con 5.163 voti pari al 26,59%. I voti che dividono i due candidati sono soltanto tre, tanto che già si parla di ricontaggio delle schede. Sotto le aspettative il risultato di Caterina Grimaldi, il Movimento 5 Stelle porta a casa solo 1.690 voti pari all'8,70% delle preferenze. Il primo partito cittadino è il Partito Democratico, seguito a ruota da Forza Italia e Lega Nord. Con una città così fortemente divisa in tre, per gli altri candidati non rimangono che le briciole. Aquilini, Di Pierro e Bottini si fermano tutti tra l'1 e il 2%. In attesa di capire se verranno effettuati dei ricontaggi, Voghera dovrà quindi prepararsi a tornare alle urne domenica 14 giugno per scegliere il proprio sindaco tra Carlo Barbieri ed Aurelio Toriani. Grazie a tutti.